Sono 110.000 i donatori di sangue in Piemonte, 30.000 solo nel comune di Torino. A questi si sono aggiunti una ventina di consiglieri regionali che oggi si sono recati nell'auto-immoteca dell'Avis, nel cortile di Palazzo Lascaris. Una iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna Se Dono Salvo, lanciata la scorsa estate dal Consiglio regionale del Piemonte, per sensibilizzare i cittadini e per dimostrare la vicinanza delle istituzioni alle associazioni di volontariato. L'invito è sicuramente donare il sangue a chi ha la possibilità e le caratteristiche per farlo, perché costantemente c'è necessità. Dobbiamo donare a chi ne ha più bisogno, essere sempre più vicini a chi ha bisogno e chi è l'ultimo. Come abbiamo descritto prima volta del Consiglio regionale, è proprio la mia volontà di avvicinare le istituzioni a questi enti, ai cittadini e anche il riconoscimento da parte dei consiglieri regionali a donare il proprio sangue, perché è un atto d'amore, un atto di vita. Il sangue raccolto nei vari centri diventa prezioso per far fronte a traumi da incidenti, operazioni e produzione di emoderivati utilizzati per i medicinali. Quest'anno in Piemonte sono state raccolte 160.000 sacche di sangue, numeri che rendono la regione autosufficiente, ma che si devono incrementare per soddisfare le richieste dei centri di raccolta anche di altre strutture sanitarie italiane. Sulle strade vediamo in continuazione incidenti, purtroppo preferirei non ci fossero gli incidenti, ma noi siamo lì a far fronte a quelle che sono le esigenze di questi incidenti, con il sangue che mandiamo nei pronto soccorsi. I pronto soccorsi sono sempre molto forniti, molto dotati, presente lo zero negativo, perché è il sangue che si infonde quando non si è ancora potuto fare l'esame del sangue del paziente. Io direi ai cittadini mettiamo il sangue in banca e speriamo che quando ne avremo bisogno, se ne avremo bisogno, speriamo che mai ci sia, questo è il motivo per cui.